Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi fa molto piacere rivolgere un saluto tutt'altro che formale alla Fondazione Alexander Langer Stiftung che sta aprendo a Bolzano la sessione di quest'anno della rassegna Euro-Mediterranea. Accolgo con soddisfazione che sia stato deciso di dedicare questo appuntamento al legame internazionale, ai legami Beziungen e al dialogo con le assegnatari e gli assegnatari del premio internazionale Langer. Con un pizzico d'orgoglio posso dire di aver accompagnato alla Camera dei Deputati, nella legislatura in cui ho avuto il ruolo di Vice Presidente della Camera, tante e tanti destinatari di questo riconoscimento. Ho stretto le loro mani, ho ascoltato le loro esperienze, le testimonianze di vita. Erano gli interpreti, spesso le interpreti, delle pratiche positive indicate da Langer, persone che operavano lontane dai riflettori, spesso anche a costo della propria incolumità. Per ben vent'anni, potendo contare sull'instancabile attività di Grazia Barbiero, il premio è stato ospitato dalla Camera dei Deputati senza interruzioni. Questa congiunzione ha garantito un legame felice tra Parlamento e pratiche di pace a partire dal 1997. I promotori sono stati via via i Presidenti della Camera e in primis le deputate dell'Ufficio di Presidenza in tutte le legislature. In questo modo la massima istituzione legislativa del nostro Paese ha dato valore proprio a ciò che afferma lo Statuto della Fondazione, ripreso nell'invito dell'iniziativa di oggi. Così il Parlamento ha sostenuto, cito dallo Statuto, gruppi e singole persone che contribuiscono con la loro opera a mantenere viva l'eredità del pensiero di Langer e a proseguire il suo impegno civile e politico, promuovendo la difesa dei diritti dei singoli e dei gruppi minoritari contro ogni discriminazione di natura economica, religiosa, razziale e sessuale, stimolando la ricerca di soluzioni solidali dei conflitti. Così il Parlamento ha promosso azioni concrete in direzione di una conversione ecologica dell'economia, del lavoro e degli stili di vita. Tutte azioni di cui oggi, e lo dico da Vice Ministra degli Esteri, c'è ancora più bisogno di fronte all'acuirsi della crisi climatica, dell'insicurezza alimentare e al protrarsi di conflitti drammatici, a cominciare da quello scatenato dall'aggressione russa all'Ucraina. La storia di questa relazione tra la Camera dei Deputati e il premio Langer conferma una tradizione plurisecolare e fondante del nostro Paese per quanto riguarda l'attenzione ai principi dell'umanità e alla loro messa in pratica. Nel 1786 il Granducato di Toscana abolì, prima esperienza statuale in materia sulla faccia della terra alla pena di morte e mi permetto di ricordare in tempi molto più recenti l'abolizione dei manicomi ad opera della legge 180, la legge Basaglia. Desidero ricordare gli attivisti internazionali di Borderline Sicilia impegnati nell'accoglienza di chi sbarcava sulle coste del Mediterraneo per esserci dove gli altri non c'erano. Era il 2014. Ho ascoltato a tu per tu nella sala circolare del Cavaliere nel 2017 i volontari greci di Angalia e i giuristi dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione. Poi, come posso dimenticare i racconti ai volti di Valentina Gagic, di Ambra Nalic, di Ademir Muraemovic, i loro dolori e la loro volontà di superarli coltivando la memoria di chi non c'era più. Facevano parte dell'associazione Adopt Sebrenica, tuttora attiva e che sarà presente, in questa edizione di Euro Mediterranea a Bolzano. Era il 2015. Quell'anno aveva messo a segno una sintesi decisiva. Abbiamo riflettuto sul ventennale del genocidio di Sebrenica e insieme sul ventennale della morte di Alexander Langer. Sappiamo quanto sia stato cruciale il suo impegno in quella terra e in quella vicenda brutale che stava arroventando la storia. Ed è proprio a quel messaggio e alle lezioni imparate durante quella guerra che dobbiamo tornare per trovare una bussola nei tempi difficili di oggi. Sono felice di essere qui con voi, anche se non in presenza, ma in comunione forte con i vostri ideali e la vostra attività. Buon lavoro a tutte e a tutti.